Buongiorno a tutti. Oggi celebriamo la centocinquantesima quattresima spedizione missionaria dei Salesiani di Don Bosco e la centocquarantaseisima spedizione missionaria delle figlie di Maria Ausiliatrice. Il ritorno maggiore Don Angel Fernandes Artime e Madre Chiara Casola, Madre Generale delle figlie di Maria Ausiliatrice, consegneranno la croce missionaria ai Salesiani e alle figlie di Maria Ausiliatrice, partenti che si offrono per essere missionari ad vita. Come per Don Bosco, questo invio missionario nella Basilica di Maria Ausiliatrice è un gesto con il quale le nostre congregazioni rinnovano davanti alla Ausiliatrice il nostro impegno missionario. E' un giorno bellissimo dove possiamo celebrare questo invio missionario qui, a casa, a casa della Madonna, nella intimità e allo stesso tempo così accompagnati. Se una cosa sta dicendo anche il Signore è questa, Dio è un Dio di amore, non soltanto giusto, e ci sta sempre. E Dio passa a una ora per trovare ai Suoi figli e a un'altra, e a un'altra, e a un'altra. vuol dire Dio ci sta, Dio non mola mai nel cercare ai Suoi amati e amati. L'altra logica è la nostra umana, e siamo esperti gremialisti tutti, anche nella vita religiosa. Io merito questo, dopo quello che ho fatto, ma come mi invia questa superiore? Però se io ho fatto, la dinamica di Dio è un'altra. E per ultimo, un'ultima volta la mamma vede che non c'è la correzione, in questo figlio lo chiama e gli dice, Muglino, ti ho detto sempre, Dio ti guarda, anche se io non ti vedo. Hai parlato con Dio? Sì, mamma. E cosa ti ha detto? Mi ha detto, Luglino, come soltanto ci siamo tu e io, prende uno per te e un altro per me. Per dire, la nostra logica anche di gendarmi, di presentare a Dio come gendarmi, non è la logica di Dio. Oggi quelli che dicevano, eh, che io ho lavorato più ore, dammi quello che è giusto. E il Signore dice, io ti ho dato quello che era giusto. Ci siamo messi di accordo, per questo hai ricevuto questo. Beh, collego questo con il grande fatto del invio missionario. Io sono convinto che alle nostre consolele e confratelli Dio ha cercato di trovarle in un momento o un altro, però il cuore ha sentito in qualche momento una chiamata speciale. Perché la vocazione missionaria per noi è una vera vocazione all'interno della nostra vocazione, dove tutti siamo chiamati a essere missionari e missionarie tra i giovani, le ragazze, i ragazzi e preferentemente i più poveri. Questa è la nostra vocazione. Però Dio chiama a tanti per vivere una missionarietà particolare ad dientes altrove, lasciando quello che è stata la tua vita e ad vita. Vuol dire, signore, non per fare due anni a te, come è così oggi, no? Faccio un calcolo, per un anno io posso... La vita che si dona non capisce di tempi. E questo è prezioso.